Salve a tutti, mi chiamo Salvatore Fumarelli, ambassatore del brand Fanola. 我的名字是 Salvatore Fumarelli,我是 Fanola的代表. Educatore del metodo VivoPoint ed insegnante nella scuola per giovani barucchieri. 我在 Dali,我自己有一个美法学院,我在 Dali,训练很多想要当美法师的年轻人. 我非常高兴,我可以来到这边. 我特别爱东方国家,尤其是你们非常的客气,他很喜欢. 今天我们要用合作式的方法一起学习,所以你们有任何问题,欢迎问我. 今年五月份的时候,我们在我们的学院,我们办了一个研习, 那有18个不同国家的美法师来受训. 从泰国到北美国,从泰国到北美国. 我们有学到很多,因为不同的国家的人, 遇到的情况还有法治问题都不一样,所以可以彼此学习. 现在老师想要问你们一个问题,因为他来国外的时候也是做一些调查, 他想要知道,如果是我们这边美法师的店,你们店里, 你的客人的百分之百的客人喜欢染头发,有百分之几,百分之几的客人喜欢染头发, 是你们客人的百分之三十,百分之四十,百分之七十, 好,七十,六十,百分之五十,百分之五十, 在那方十,百分之六十,那如果能做多一些的代表, 我们在他们的华市多数多汉市多数很重要, 如果m creo称市多百分之二百分之五十, 但是我们这类的优务,非常重要, Quindi una grossa fetta di cliente color e capelli Per che colora i capelli? Perché ci sono diverse ragioni, logicamente copertura a capello bianco perché gli piace andare di moda e poi un'altra ragione è per cercare di schiarire il colore del volto perché tu devi sapere che gli orientali è importante avere la pelle bianca quindi avere un colore che permetta di e poi logicamente così attraere più persone. Allora abbiamo detto coprire i capelli bianchi prima si colorava solo per coprire i capelli bianchi Quindi c'è un bianco di bianco di bianco, c'è un bianco di bianco di bianco di bianco? 完全没有, ah,好丢裂 ok quindi, qui c'è una cosa b perché in italiano 白色 diciamo bianco b, quindi qui c'è bianco bianco,白色 per moda, abbiamo detto e in italiano moda, fashion come in, 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 come in. ah, ti da lio cut, c'èm, c'èmá, c'èmà, 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 crema ti da lio, perché? perché, perché la nostra assiguità è di specifici periodo, perché mi preferita corruzione, ma ha quelle Headache di smartphone eschèmà, perché noi ha vorrei un poichine fai una marca di Prima di che si è in questo caso, e di… assicurando i moda, di appare di sc concerts, di appare di sc tutto il paio, quindi per dare un poichine crema Imitazione, non è uguale al modello. Imitazione, limitazione è la forma di sottotitura. Perché? Perché molti clienti che vorrei sottotitura, hanno sottotitura a una persona che ha sottotitura, o che ha sottotitura, o che ha sottotitura, o che ha sottotitura. Quindi, per sottotitura, hanno sottotitura e ha sottotitura. Starto. Quindi, se abbiamo scomparto i capelli bianchi, facciamo ripetere. Se facciamo il colore alla moda, se facciamo colore per fare dei bellissimi tagli, facciamo il colore uguale all'està, ne va nella nostra immagine. Quindi, non è perché, perché gli uomini e gli uomini, e gli uomini, gli uomini, gli uomini, e gli uomini, e gli uomini, e gli uomini, faccialmente oggi si cambia colore e capelli. Poi ci si mette lo sport, scambi treguenti, piastra, decolorante. Quindi, il colore e capelli ha bisogno di trattamenti. C'è stato un po' di che utile, e quindi, loro non sopp evidentemente, anche dopo aver bucettino, la gente deve andare usa delle pezzi, quindi è importante che lavorano. Poi si possono prendere dei pezzi con la facoltura, quindi di avere delle cose che si sono sempre pes Japan. Oggi ci sono dei pezzi fotografi, quindi hanno sempre pesado il pezzi, quindi ci sono delle pezziografiche, quindi sempre di usare la pezziografia. Quindi bisogna, perché ci sono questi elementi, bisogna fare un'immagrazione di fare un'immagrazione. Chi colore capelli ha bisogno di prodotti per vendita, quindi comprare prodotti? Quindi, per ilegi, bisogna fare un'immagrazione di fare un'immagrazione di fare un'immagrazione di fare un'immagrazione. Tutto ciò, porto al fatto, quindi non è un'immagrazione. Per ilegi, questo è un'immagrazione di rinconi, perché se non si può fare un'immagrazione di fare un'immagrazione di fare un'immagrazione di fare un'immagrazione di fare un'immagrazione. Tutto ciò, ciò è un'azienda, in questo caso, Fanola è un'azienda giovane, dinamica, al passo con i tempi, rapporto qualità prezzo, eccellente. E' un'azienda italiana che investe sia sui prodotti sia sulla formazione. E' un'azienda utile. E' un'azienda italiana che investono in un'azienda interesse, non è necessario aiutare sui prodotti sia sui prodotti. Uccisione il nostro intervento. Quello che stanno usando a Fanola Iba è un'immagine di questo tipo di colore, ma anche di l'immagine di un'immagine di Giuseppe. Quindi il 我們 il nostro canale è un'immagine di questo tecnico. Ho questo punto, l'imagine di questo esempio, ora il nostro biglio è un'immagine di今o ci sono stati in questo tipo di colore della colore, perché l'imagine è non interessa, ma la qualità è un'imagine di colore del colore, ma il nostro canale ciò che è molto sempre metà. che ciò che è stata fatta, che ciò che non si partage fuori, mai sarebbe potato che non si fai l'interenza del fattamento. Molto con questo lavoro, per fare la cintura di attraverso e davvero molto di non poter uparcizare, poter farlo. E' come questo certo? l'oncena sempre fai l'accia, che si fai l'accia dal fattamento, e farlo per mai tanto, va evo l'acciao farlo, che ti fai l'acciao, Mi dice perché Sellarano? All'order il problema dell'Argilla, giusto? Si! little br eggs, l'angie il gruppo di arte Però l'angie il gruppo di arte Abba l'angie Beghe cane il gruppo di Taiwan, a teые l Cornerano da Pau Byte Hai zi ין a secque di Kristin qui tava Chrome Quindi faiolo, non è vero, è vero, è vero. E' vero, è vero. È vero. È vero, è vero. Quindi, perché il vero in questo vero, è vero, è vero. È vero. Quindi, è vero. Quindi, ora, per ora, per ora, perché FANOLA, questo, è vero, per il vero, per il vero, per diversificarsi, per fare più servizi, per raggiungere un altro servizio, ragazze che non vogliono colorare, bensì vogliono avere giusto quelle schiariture che vanno quando si formano al mare. perché, perché, ciò, ciò, perché, perché, è vero. si personalizza molto a secondo della Mastra di Capendi, si possono fare piccocchi, che è più spesso, meno spesso. Quindi, come facciamo? Come fare con il lavoro che adesso, come facciamo fare la scuola. E poi, possiamo, secondo il nostro cliente, So for example, i delizioni se fanno come meglio se creda secondo le lunghezze. E poi con la differenza, possiamo decidere a decidere a definire la differenza del uomo. Non è molto facile, bisogna più di più. Cioè l'annodi? Sì. Ma perché? Sì, sì, ho capito. Ma non vai sulle lunghezze? Sì, sì. 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 Scusami. Gira male di qua la donna. Vedi, vedi così loro riescono a vederti. Tu vai di là. Tu vai di là. Tu gira la ruota con lei. Ok. Benissimo. Già è già cantata. Sì. Sì. Ok. Sì. Feng Chi. Nel frattempo le diciamo cosa faremo su questa ragazza di... Sì. Voyage. Sì. Sì. Allora sulla base... Sì. 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 E poi sulla lunghezza è un 5 abbiamo detto, no? Allora è un 4. La lunghezza sono schiariti, diciamo. Sono schiariti. Ok. Però il colore naturale suo è un 3? 3 e mezzo. 3 e mezzo. 3 e mezzo. Sì. Sì. E... Sì. 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 Dio. E' una protezione. Sì. Così ti facciamo partecipare. Sì. Cosa facciamo questo? Sì. Si. Sì. Cosa facciamo partecipare? Sì. Se c'è, c'è... Dio cucchiaini. Dio cucchiaini. Dio cucchiaini. Ok. Allora dice, mette due cucchiaini, lei. Dentro o alla titta, oppure nel decolorante. 2 kg su 30 grammi di prodotto Sì, è vero, questo è il menù da due, ma ogni 30 g di piuffon o ogni 30 g di rangau aggiungiamo 2 tonci di questo prodotto Questo qua serve, sappiamo che il decorante tende a scavare, toglie i pigmenti, quindi svuota il capello Con questo prodotto noi cerchiamo di proteggerlo quanto più possibile Il funzionale è quello che si spiega o solucionale, tutto il suo tempo Growth In essenziale il prodotto è stato utilizzato per rinforzare la visione Per rinforzare la visione è stato bisogno di fare il prodotto Quindi ogni 30 g di prodotto senza calcolare la precisione quindi ci sono i ragazzi quindi noi ciò che si dice ogni 30g di fai o fai ogni 30g di fai o fai o fai 2g di fai di fai di fai di fai di fai di fai quindi usi il miscelata e misceli con questo ma va bene ma anche il pennello perché il pennello il pennello che ciò ma va bene ma va bene ma va bene quindi che ho usato ma che 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 ma che ma che oppure con la prima volta, la prima volta da una mappa come fissura oppure la prima volta come fissura e poi si va a girare in un'acqua ma se non si può fare un'acqua non si può fare una mappa e poi si può fare un'acqua e poi prendere la prima e poi prendere la prima e poi prendere la prima ok non è problema non è problema ok è un po' più Ok, proiettiamo il capello a 90 gradi Questo è un lavoro molto da parrucciere, molto artistico Questo è un lavoro molto utile Chi piace pennellare Si lascia la radice naturale, si cerca di sfumare un poco No, no, questo va bene Grazie 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 Salvatore, con voi, è un lavoro È un lavoro È un lavoro È un lavoro L'altro giorno, mi ringraziato il suo lavoro È un lavoro È un lavoro È un lavoro È un lavoro E un lavoro La vostra è qui Da dove, di quali parte d'Italia viene? Alla per le pote d'Italia È un lavoro È un lavoro È un lavoro e Nabolismo è molto famoso, hanno visto pizza e caccia in cui voi venerate a Nabolismo, vedi c'è un po' di Nabolismo? non, in cui non venerate, sono molto molto molto, aggiungi, 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 mi ricordo che io mi provo a lei, perché Nabolismo, ci sono un po' di Nabolismo, perché Nabolismo aveva molti c'erano, Dì non c'è bisogno di un bianco di bianco, bianco di un bello e un cilassino. Quindi, le bianco delle boccia del bianco, si chiama un bianco, si ottieni il bianco il bianco. Si chiama il bianco, si tiama un bianco, poi ci siamo ritmi di un bianco a pagi, ciò ciò si vuole un cilassino, una cilassino che si li pagano. Ahahahahah Ma se c'è l'aspirato E' una cosa che si può E' una cosa che si può Quindi adesso per arrivare a Naro ricordare Caffè Sospeso E' lo che mi piace E' lo che mi piace E' lo che mi piace E' lo che si è Vara che aveva il fatto Ahahahahah Ok ma una cosa buona una cosa buona e anche un po' non c'è qualcuno che mi poteva nessuno deve essere così pover che non vengono essere un caffè in Nasi 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 non c'è un po' ma 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 non c'è un po' messe ma non c'è un po' 95,90 c'è un po' la fape ecampori stanno in quanto al fondo si vedrà che la distribuzione che stai facendo del decolorante è diversa, quindi metti di più su punte e lunghezze e meno nella parte invece che si avvicina al... perché vogliamo fare delle sfumature, no? E invece il punto di partenza, cioè parti dalla lunghezza e vai in giù, ok, poi vai in giù, lunghezza in giù e poi vai in giù. Deposito. Ok, se la facciamo vedere in diretta per questo tempo magari più chiaro, poi spiego ma non le faccio. Adó, perché loro la facciamo? Gli hanno precedenti di giù di fare, perché loro non hanno fatto l'immagricità. Per esempio la facciamo a fare, perché non avrò la facciamo a guardare le sfumature, però loro hanno chiesto che trovate i rimani. Quindi, l'imani del bisogno. E? Come! Quindi gli hai? Per cui dovessi vedere le sfumature? E? Cos'è? Quanto ti trattieni distante della radice? Io ho detto che è mano libera e interpretazione. Guarda come oggi sono. Sui sì. Quindi, facciamo un prodotto di farcione. Quindi, facciamo un prodotto di farcione. E poi, facciamo un prodotto di farcione. E farcione di farcione di farcione. È un prodotto di farcione. Quindi, facciamo un prodotto di farcione. Vedi, facciamo un prodotto di farcione. Ora, faccio vedere questo movimento. La prende, la butti sulla. Quindi, facciamo un prodotto di farcione. Ok, questo è un prodotto di farcione. Perché adesso il prodotto non è più grande. Quindi, la farcione di farcione è più grande. se lei vuole essere più chiara ancora, non vuole solo riflessature, si fa anche sotto Sì, 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 sì Sì, 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 sì. Sì 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 Un da Qua Fisch Yuek Si Yue E e South Toh Da Oh Toh Con Da Y Y Qua Fisch Yue Yue Xiao Yue Yue Vamba La La Da Mister Allora Da Me You Is Zai Can I Lasciatevi più di fuoco, non bisogna rincare 12 giorni, ma non bisogna mettere un po' di da acqua. Si, possiamo fare un'evoluzione. Non lo so, ne vedete qualche cosa. Grazie, voglio vedere il fatto che non si faccia da fargare le metodo di unaårato, ne mi faccia veramente vedere? Non c'è una gara malite. Grazie a tutti No, 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 non, non. Ok, ok. Ok. Quindi ciò di questo, ciò di chiara? Ok, ok. Quindi ciò di chiara? Ciò di quello? C'è la maniera. Ok, ok. e poi facciamo la scuola. E poi facciamo la scuola, e poi facciamo la scuola. Quindi, adesso la scuola ha fatto la scuola. Quindi, la scuola ha fatto la scuola? Non ho capito? e poi facciamo la scuola. L'aiuto d'alloggiato, do tevo franco. E poi facciamo la scuola. E poi, Ma facciamo la scuola. E poi facciamo la scuola. E poi facciamo la scuola. No, 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 no. Quindi da un'altra parte, da un'altra parte, potete vedere che non è un'altra parte. Non è una parte parte. È un'altra parte. È un'altra parte. Va bene, ne parlo con mia moglie. Allora dico, moglie, mi vuoi più fit, più magro. E allora oggi ho contato a Salvatore, mi ha spiegato del trucco. Posso dare la mano in palestra? Andare in palestra? Ok. Dì, voglio spiegare il taglio oppure... Spieghiamolo dai, intanto, visto che ci siamo. Allora... Vendiamo la nostra Domo Fatulisi di... Dì? Prendiamo la nostra Ciacchacchia. Prendiamo la nostra Ciacchia. Nore, questa è la nostra Ciacchia Guia. e poi dove sono? e poi dovrei andare a dove? e poi dovrei cercare la sua spazia e poi dovrei fare una spazia e poi dovrei fare una spazia ok, motore dice non è molto短a ma ho dovuto capire l'Italian ma ho dovuto capire l'Italian non è molto短a non lo fare troppo forte non, 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 non non lo fare, non lo fare No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Grazie a tutti. 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 Questa è una nuova textura innovativa. Grazie a tutti. 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 No, 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 è piastra, lì, oggi va bene anche il ferro, il ferro va bene, ok, 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 ah. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, fai dargli la piastra così tu lavori col ferro, vai, ti dà il ferro adesso, così C'è il ferro, c'è il ferro? C'è il ferro, c'è il ferro. C'è il ferro, c'è il ferro, c'è il ferro. C'è il ferro, c'è il ferro, c'è il ferro, c'è il ferro. . . . . . Oh no no È che ne metto a funerace diействosi Il nostro corso 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 Grazie. Grazie. 好,好,好穗,好穗,好穗,好穗,這個嗎? 好,好,好穗 好,好想穗 Grazie. 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 Grazie a tutti.